Ciao ragazzi, ascoltiamo il team radio di Sebastian Vettel post Q2. Anche oggi prestazione non buona, Leclerc d'altra parte è riuscito a conquistare la seconda fila e a mio parere Seb non è sicuramente il pilota che siamo abituati a vedere negli ultimi tempi, però vorrei vederlo più grintoso in qualifica. Ditemi la vostra nei commenti. In box? Yeah, the car is not ready. Copy. All of the flex, and charge button on to come in.